Quando guardavi i successi nel campo lavorativo, e ce n'erano, c'erano riconoscimenti non soltanto dal punto di vista economico, ma anche professionale, ero felicissimo, però poi di fatto vivevo per lavorare. L'Australia ha i pregi e i difetti, non esiste un paese perfetto, attenuti tutti andrebbero a vivere in quel paese. Per quello che sentivo dire mi rispecchiavo molto verso quello che cercavo, cioè un bilancio giusto fra il mondo lavorativo e la sfera privata. E quindi sono partito per l'Australia alla man scoperta per vedere un pochettino di che cosa si trattava e ho passato le mie vacanze classiche, tre settimane in Australia. Ho confermato tutto quello che ho sentito, mi era piaciuto e quindi ho fatto il passaggio successivo, cioè quello di richiedere un visto. Quindi un bel giorno l'ufficio di immigrazione mi contatta e mi dice che il mio visto è stato rilasciato. quindi puoi immaginare i salti di gioia, soprattutto perché è stato un processo lungo e faticoso. Poi una sera, per puro caso, mi è venuto un flash. Ero pronta a dare le dimissioni al mio datore di lavoro e nella mia posizione, diciamo, di carriera molto importante e invidiata da tante persone per andare in un posto dove non mi aspettava nessuno, non avevo un datore di lavoro che mi aspettava, non avevo una casa, non avevo niente. E quindi ho realizzato che era un momento, una finestra temporale d'oro della mia vita, 32 anni, quando questo è successo, per realizzare una cosa che avevo sempre pianificato di fare, mai avuto il tempo e l'occasione di fare, forse anche il coraggio, cioè quello di prendere e visitare il mondo.